Siamo al Teatro San Carlo dove stiamo provando con la compagnia di balletto uno degli spettacoli che farà parte di Ottobre Danza, la seconda edizione di un grande mese dedicato alla danza istituito l'anno scorso per la prima volta dal Teatro San Carlo. In questo grande mese della danza ci saranno ospiti varie compagnie di fama internazionale come il balletto di Corea che sarà per la prima volta in Europa, il balletto di Lione con le coreografie di Forsyth che anche sarà a San Carlo per la prima volta, la nostra compagnia di balletto con una serata monografica dedicata a Mario Pistoni che è uno dei grandi coreografi italiani del nostro secolo e Caroline Carson, grande nome della danza contemporanea, già direttrice alla Biennale di Venezia e grande danzatrice, grande pensatrice che verrà da noi e si esibirà nei suoi famosi solo. All'interno del Teatro San Carlo, oltre che di danza, si parlerà anche di didattica sulla danza. Grazie alla presenza di queste grandi compagnie, di questi grandi nomi della coreografia abbiamo anche pensato di mettere in atto delle attività collaterali che serviranno a un pubblico di conoscitori e non, quelli che sono gli stili coreografici della danza classica moderna e fino alla danza contemporanea. Quindi apriamo per la seconda volta in realtà le porte del Teatro San Carlo come abbiamo fatto l'anno scorso, a quelle scuole, a quegli allievi, a quegli uditori che vogliono interessarsi e approfondire di più l'argomento della coreografia. Quindi masterclass con Caroline Carlson e con il balletto di Lione che farà una grande performance all'interno del Teatro di San Carlo, utilizzando anche vari spazi del teatro stesso e non solo il palcoscenico. Quindi ballerini, professori di danza, danzatori, tutti insieme a festeggiare questo grandissimo mese, veramente inusuale nel panorama ballettistico di questo periodo. Data la grande offerta di spettacoli e di attività all'interno di Ottobre Danza, abbiamo pensato anche ai prezzi. Quindi per un pubblico di giovani e meno giovani ci sono due differenti opportunità. Una è la card 4, a partire da 60 euro, con la quale si possono vedere 4 spettacoli su 5. E un'altra è un prezzo di favore che unisce la Poetry Events, una grande manifestazione che fa Caroline Carlson sull'improvvisazione all'interno del teatro, che unisce appunto questo spettacolo al mandarino meraviglioso e la strada, fatto apposta per la compagnia di balletto del Teatro San Carlo. Allora, chi vuole immergersi nella danza e poter farne una vera e propria maratona, per due giorni, Poetry Events e il mandarino meraviglioso con la strada, saranno dati al pubblico a un prezzo di 35 euro, per chi vuole vedere entrambi, e invece 25 euro per chi vuole solo partecipare al grande evento di Carlson. Vi aspettiamo quindi al Teatro San Carlo in questo mese di ottobre, dedicato completamente alla danza, per informarvi, per approfondire e per conoscere questo mondo magico e meraviglioso del balletto.